Ultimi punti a disposizione, obiettivo identico per Acqua e Sapone e Ponte Vomano, i padroni di casa per chiudere un mese di marzo che li ha visti sempre vincenti. Gli ospiti per dare continuità alla vittoria col paterno e sperare nella salvezza diretta e anche del Gallo contro Capitanio, due tra i tecnici più giovani di questo campionato. Fischia Stefano Foresti della sezione di Bergamo, primo tempo con un netto predominio del Ponte Vomano. Quinto minuto, vola via Manuel Di Sante, Francia raccoglie ma il pallone sbatte sulla traversa e salva i verde oro. Si affaccina avanti l'Acqua e Sapone, punizione dal limite dell'area di Marrone che si vila fuori di poco, alla destra del giovane Farnese. Episodio da Moviola poco più tardi, Piedimonte tocca con la mano, posizionato bene Foresti, assegna la massima punizione, qualche dubbio dal replay, circostanza davvero difficile da valutare. Dal dischetto il solito Manuel Di Sante spiazza Palena e porta in vantaggi suoi con l'ottavo centro in campionato. Si attende una risposta dei ragazzi di Del Gallo che però non arriva e allora Gentile lascia sul posto Caporrelli il legno ancora in soccorso dell'Acqua e Sapone che può così andare negli spogliatoi sotto di un gol. Nella ripresa infatti sarà tutta un'altra partita, Trento prende il posto di Caporrelli, cambia modulo la squadra di casa, 30 secondi, Petito raccoglie calcia, Farnese ben posizionato, sventa la minaccia. Piedimonte pennella al centro, evangelista da due passi, non è decisivo con il colpo di testa, tiro cross, velenosissimo Di Majorani sventato ancora una volta dal portiere ospite che capitola ufficialmente al 28esimo. Zippilli suggerisce all'ultimo, Marrone scaglie in porta la rete del pareggio segnando per la seconda partita consecutiva. Nell'occasione il direttore di gara allontana il fisioterapista Semproni e Del Gallo per qualche parola di troppo, il Pontevomano fa fatica nel secondo tempo e lontano parente di quella ammirata all'inizio ma negli spazi resta letale, scivola Majorani, si invola, fa tutto da solo e lo fa la grande. Daniele Pallitti, una bomba che termina in fondo al sacco, scrive Acqua e Sapone 1, Pontevomano 2, esplode la panchina ospite per un risultato che permetterebbe di uscire fuori dai play-out. Dall'altra parte però si deve fare i conti con il solito Luca Marrone, Motto la apre e l'azione, Trento serve un cioccolatino ed il 10 cala il settimo centro in campionato impattando il pallone col tacco. Questa volta l'esultanza smisurata arriva dall'altra panchina, seppur a corto di staff e l'ultima emozione della gara, il Pontevomano porta via da Montesilvano un punto che smuove la classifica e li tiene a galla. L'acqua e Sapone resta a distanza di sicurezza dai play-out grazie ad un bel secondo tempo e soprattutto a Luca Marrone. Mister Capitanio, quanti rimpianti per un primo tempo dominato con un gol, un palo e una traversa? Sì, diciamo peccato, abbiamo fatto bene, abbiamo trovato due golle, oltre al palo e alla traversa in un altro paio di occasioni dovevamo chiuderlo con un margine più ampio per poi, sapevamo che nel secondo tempo l'acqua e Sapone comunque sarebbe uscito e così è stato, però noi abbiamo fatto bene, comunque eravamo 1-0. Nel secondo tempo loro hanno fatto meglio, sono partiti bene, facevamo fatica a tenere palla in avanti, ci si è abbassati un po' troppo e è arrivato il pareggio. Abbiamo avuto la forza di tornare in vantaggio e poi peccato nel finale siamo stati troppo leggeri, si può subire golle così al novantesimo, però ci rimbocchiamo le mani che mancano due partite, sicuramente la situazione è complicata, però noi abbiamo l'obiettivo in queste due ore, cercheremo di fare sei punti o il massimo di quello che viene e poi alla fine facciamo i conti. Mister Del Gallo, un pareggio sostanzialmente giusto, primo tempo meglio il Ponte Romano, secondo tempo meglio voi? Ma si è detto bene, nel primo tempo purtroppo non siamo riusciti a fare quello che avevamo provato in settimana e ci hanno messo veramente in difficoltà, il Ponte Romano ha fatto un ottimo primo tempo, però il secondo tempo penso che una squadra sola è scesa in campo, abbiamo pareggiato e abbiamo preso golle forse anche nel nostro miglior momento, l'unico tiro del secondo tempo che abbiamo preso. Poi siamo stati bravi, la reazione non era facile, i ragazzi hanno creduto fino all'ultimo in questo pareggio e poi secondo me potevamo anche vincerla, però onestamente i ragazzi hanno dato tutto, c'era grande caldo, va bene così, non siamo ancora salvi, abbiamo ancora dei punti da fare e abbiamo queste due partite per conquistare la salvezza.